PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Cosati e ti do il benvenuto. Se hai notato, venerdì 1 luglio ho lanciato una nuova rubrica che si affianca al podcast Mini PCT Note vocali flash, massimo di 2 minuti, sulle notizie del giorno del processo telematico e del mondo digitale che potranno essere poi riprese e ampliate nel podcast. Se ancora non lo hai ascoltato, puoi recuperare la prima nota audio nel canale Telegram, SoundCloud, Spreaker o iTunes. Aspetto i tuoi commenti, intanto ti ringrazio sempre del sostegno di questi mesi. Iniziamo la nuova puntata. Oggi parleremo di fattura elettronica. Piccoli spunti introduttivi. Su iniziativa della comunità europea I-2010, l'Italia ha sviluppato un quadro normativo, organizzativo e tecnologico chiaro in tema di fattura elettronica, introdotta con la finanziaria del 2008. Dal 6 giugno 2014, tutti i fornitori di beni e servizi hanno l'obbligo di presentare la fattura elettronica XML verso la pubblica amministrazione centrale. Dal 31 marzo 2015, l'obbligo è sceso verso le PA locali. La fattura elettronica deve essere immutabile e non alterabile nel tempo. Gli elementi essenziali, pertanto, risultano essere la data certa, con pecche intermediari, l'autenticità della provenienza tramite firme digitali e l'integrità del contenuto, con processi di conservazione sostitutiva. Come stabilito dal Decreto Legislativo 127 del 2015, il 1 luglio 2016 è partito il servizio gratuito predisposto dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'intero flusso, creazione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica sia verso la pubblica amministrazione che, a partire dal 1 gennaio 2017, verso i privati. Fabio Salomone ci presenta il nuovo servizio, rivolto a tutti i soggetti dotati di partite IVA, non solo piccole e medie imprese, ma anche professionisti. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. In data 1 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha attivato l'applicazione gratuita per generare, trasmettere e conservare online le fatture tra privati e con la pubblica amministrazione. Il servizio realizzato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia per quanto riguarda la creazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture destinate ai privati, che però partiranno dal 1 gennaio 2017, sia per quelle rivolte alla pubblica amministrazione. L'accesso all'applicazione creata dall'Agenzia delle Entrate può avvenire attraverso un normalissimo browser. Si tratta infatti di una web application, accessibile all'indirizzo internet ivaservizi.agenziaentrate.gov.it slash portale, area fatture e corrispettivi. La web application prevede, oltre funzione di compilazione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, anche una sezione relativa all'assistenza, ovvero alla presentazione del nuovo servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. L'accesso alla web application può avvenire sia attraverso le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, quindi tramite il codice fiscale, la password e il PIN, oppure attraverso l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi, oppure, ancora in alternativa, attraverso lo SPID. Dalla prima analisi della web application creata dall'Agenzia delle Entrate, possiamo notare come il sistema sia strutturato attraverso una serie di web form, praticamente il cittadino dovrà semplicemente inserire all'interno delle maschera predisposto dall'Agenzia delle tutti i dati relativi alla creazione della fatturazione elettronica, quindi prima dovrà abilitarsi, poi generare la fattura, selezionare il formato della fattura, se è una fattura ordinaria e semplificata o una fattura PA e quindi dovrà seguire le istruzioni fino alla generazione della nuova fattura, con possibilità di riprendere una fattura interrotta nella fase di creazione o addirittura di importare una fattura elettronica precedentemente creata da un file XML, che ripetiamo è lo standard per la fatturazione elettronica nei confronti della PA. Una volta creata la fattura, il sistema creato dall'Agenzia delle Entrate provvede quindi anche a trasmettere la fattura al suo destinatario, che può essere sia una pubblica amministrazione, quindi parliamo di fattura PA, oppure dal 1 gennaio 2017 anche il privato attraverso la trasmissione della fattura ordinaria e semplificata. Il procedimento di trasmissione della fattura elettronica comunque ed in ogni caso, sia se si parla di pubblica amministrazione che di privati, avverrà attraverso il sistema di interscambio, quello che ormai abbiamo imparato a conoscere come lo SD, che esaminerà il file e nel caso di controlli negativi provvederà a scartare la fattura e in caso di esiti del controllo positivo provvederà a monitorare la fattura e a conservarla correttamente. Proprio la fase di conservazione della fattura elettronica è quello che più interessa il cittadino, in particolare fino ad adesso le imprese, le società, le ditte, gli operatori economici e anche la pubblica amministrazione. Infatti il problema della conservazione sostitutiva è sempre stato uno dei punti nodali della emissione della fatturazione elettronica perché fino ad ora la conservazione sostitutiva doveva essere curata esclusivamente da soggetti terzi abilitati perché non era possibile effettuare una conservazione sostitutiva in house, cioè conservando i file della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione semplicemente inserendoli nel pc oppure in un dvd perché le regole tecniche e la normativa prevedono per quanto riguarda la conservazione delle fatture PA un rigido sistema di organizzazione dei file secondo determinati standard anche tecnico informatici. Questo problema pare essere risolto attraverso la creazione di questa web application dell'agenzia delle entrate. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Il servizio di conservazione non è automatico ma l'utente dovrà espressamente aderire al servizio di conservazione riempiendo un form e accettando le condizioni di conservazione previste dell'agenzia delle entrate contenute nel manuale di conservazione che verrà predisposto dall'applicazione web una volta inseriti appunto tutti i dati del cittadino, quindi codici fiscali, residenza, domicilio, tutti quanti i dati che individuano anche dal punto di vista imprenditoriale o come società o come libro professionista l'utente che intende aderire al sistema di conservazione organizzato dall'agenzia delle entrate. Quindi una volta aderito l'utente redatta e trasmessa la fattura elettronica dovrà chiedere sempre attraverso la web form l'invio in conservazione della fattura elettronica. Tutto avviene attraverso un processo di inserimento di dati abbastanza semplice per cui l'utente viene guidato passo passo dal sito dell'agenzia delle entrate per l'intera vita della fatturazione elettronica, quindi dalla sua generazione alla sua conservazione e quindi anche conseguentemente dalla sua esibizione della fatturazione elettronica. Il punto, la novità di questo servizio viene ampliata dalla previsione come indicata nella circolare dell'agenzia delle entrate del primo luglio 2016 di una creazione, prossima creazione di una web application anche su tablet e su telefonino, quindi di una app per smartphone e tablet in modo da ampliare l'utilizzo dell'emissione della fatturazione elettronica anche in mobilità a prescindere dal dispositivo elettronico posseduto. L'attivazione di questo servizio, questo nuovo servizio di conservazione sostitutiva per tutte le fatture elettroniche sia nei confronti della pubblica amministrazione che a partire dal 1 gennaio 2017 nei confronti dei privati è un elemento di grandissima novità per gli operatori del settore, potendo risolvere concretamente uno dei grandi problemi proprio per la generazione e conservazione delle fatture elettroniche che era proprio quello di non riuscire a trovare un modo anche gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche. Ricordiamo infatti che fino ad oggi la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche poteva avvenire soltanto ed esclusivamente utilizzando delle risorse esterne, quindi soggetti terzi abilitati che per questo compito comunque chiedevano un compenso, quindi un aggravio dei costi per gli operatori del settore e in particolare per gli avvocati, per le fatture elettroniche che questi sono chiamati a emettere nel corso della propria attività professionale. Solo con il tempo saremo in grado di poter esprimere un giudizio positivo o negativo su questo nuovo servizio creato dall'Agenzia delle Entrate per la generazione, trasmissione e conservazione online delle fatture elettroniche. Sicuramente non possiamo che congratularci con l'Agenzia delle Entrate per la puntualità con cui hanno attivato il servizio. Si parlava appunto nel Decreto Legislativo 127 del 2015 della data del primo luglio e in effetti non possiamo che confermare che il servizio è stato attivato proprio in tale data come anche confermato dal comunicato stampa che l'Agenzia delle Entrate ha diramato proprio il primo luglio. Solo con il tempo saremo in grado di poter valutare se il servizio attivato dell'Agenzia delle Entrate sia completamente positivo né per i contribuenti in generale e nel particolare per i libri professionisti e gli avvocati. Ringrazio Fabio e Use Law Web Radio per la condivisione del contenuto che è distribuito sotto licenza Creative Commons, attribuzione e condivisione allo stesso modo, 4.0 internazionale. Al prossimo appuntamento e ti ricordo che vediamo il futuro digitale. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Fosati per idee, suggerimenti, richieste su about.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati.